Usciti da città di Castello sulla statale 221 dopo aver attraversato il Tevere si devia in direzione di la montesca Monte Santa Maria Tiberina. Dopo circa 3 chilometri di strada buona conviene lasciare la macchina ma si può anche proseguire con l'auto e si percorre una carrareccia che porta a 514 metri d'altitudine dell'eremo di Buon Riposo. Si racconta che qui in solitudine abbia soggiornato San Francesco nel 1213. Il luogo è un poco impervio ed è del tutto abbandonato. Rari sono i visitatori fra le fitte boscaglie e i cespugli di rovi ma vi si trova una chiesetta che conserva una bella crocifissione trecentesca. Negli ambienti ridotti a casa d'abitazione più volte abbandonati risiedettero oltre a Francesco Sant'Antonio da Padova, San Buenaventura da Bagno Reggio, San Bernardino da Siena e altri frati fino a tutto il 1600. Nei dintorni selvaggi ed incontaminati c'è un'ottima fonte d'acqua perenne detta appunto di Buon Riposo.